Buonasera, vi saluto e vi invito a partecipare a questa nostra conferenza sull'arte intuitiva come strumento di aiuto individuale. Se vedete nel sito, vi faccio vedere, abbiamo diverse interviste oggi e spesso non ci rendiamo conto delle possibilità che abbiamo con l'arte. Molti di questi artisti avevano un po' visto dei limiti nella loro crescita individuale e hanno utilizzato l'arte per aprire nuove dimensioni, per aprire nuove porte e molti si sono autoguariti, per esempio Marina Giannotti con la fotografia è riuscita, con l'arte della fotografia, è riuscita ad aprire queste dimensioni di crescita personale. Lory Marinelli, la coordinatrice del Centro Europeo dei Media, Kendra Romero, Vincenzo De Marco che conoscete, Vito Casavola che con la poesia ve lo racconterà poi lui, con la poesia così è riuscito a, non parlava da bambino quindi all'improvviso ha trovato questo canale della poesia e con il fatto di entrare in queste dimensioni dove le informazioni vengono è riuscito ad aprire questa porta per cominciare a parlare. Lisa Sperandio poi Carmen Patimo la intervestiremo e sarà dal dottor Pagliara che anche si è autoguarita con l'arte poi ce la racconterà lei è naturalmente Luigi Pignatelli che ha fatto tantissime manifestazioni artistiche a Taranto in Puglia in Italia che voi senz'altro conoscete quindi l'invito in queste trasmissioni vedremo diversi artisti e vedremo che l'arte non è qualcosa per perdere tempo o per perché non sappiamo cosa fare ma è uno strumento dove ci colleghiamo con l'infinito ci colleghiamo con la nostra intuizione e all'improvviso ci vengono soluzioni che pensando soltanto non ci sarebbero mai venute bene ci vediamo vi saluto e buona giornata grazie a tutti